Era ricercato da mesi, dallo scorso dicembre, quando al termine di una vasta operazione antidroga finirono in manette sei pusher a rintracciarlo ed arrestarlo ai carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo. Si tratta di un 32enne albanese, secondo gli inquirenti, capo di una complessa organizzazione di spaccio che avrebbe rifornito di sostanza stupefacente l'intera provincia aretina. L'uomo è stato bloccato nella propria abitazione con un grosso quantitativo di droga e ben 20.000 euro in contanti. Il 32enne era considerato punto di riferimento per gli otto grossisti di Arezzo arrestati tra il giugno e il dicembre 2017, un gruppo composto in prevalenza ad albanesi che avrebbe rifornito di cocaina a Shishemariguana tutta la provincia aretina. Il presunto capo dell'organizzazione è stato individuato dopo un'intensa attività di indagine ieri assieme alla compagna, una ventenne di origine romene, mentre si trovava in auto nel centro di Arezzo. Dopo un primo controllo è stata disposta una perquisizione domiciliare, al termine della quale sono stati posti sotto sequestro 7 kg di marijuana, 250 g di cocaina e circa 20.000 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Nell'abitazione sono state inoltre trovate un macchinario per la termosaldatura, delle buste, bilancini di precisione e sostanze da taglio. Ancora in corso le indagini per chiarire il ruolo della donna e ricostruire la filiera dello spaccio. Questa mattina processo per direttissima per il 32enne e la compagna.